Eccoci qui arrivati alla nostra lezione di francese, noi parleremo di HCCP, chiaramente in lingua francese, cercheremo ecco di fare questo lavoro, ovvero di parlare prima in francese della funzionalità di questo sistema internazionale con i suoi principi e poi dopo ecco faremo una traduzione in lingua italiana, cerchiamo ecco di portare la traduzione in inglese con quella francese con quella italiana di pari passo in maniera tale che si possano poi capire i passaggi successivi. Alla fine faremo ecco un solito riassunto finale italiano francese per poter prendere ancora più padronanza e ancora più sicurezza dell'argomento. Ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. Allora, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il est un système reconnu de point de vue international, donc il est international et en anglais il signifie Hazard Analysis and Critical Critical Control Point. Allora, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire che la traduzione inglese in lingua inglese in lingua inglese è utilizzata in altre lingua inglese, quindi il mot in inglese è utilizzato anche nella lingua francese. Allora, questo sistema è utilizzato per la riduzione dei rischi liati ai alimenti. De quei generi sono questi rischi? Allora, i rischi possono essere physico, i rischi possono essere chimico e, infine, i rischi possono essere biologico. Le entreprises, quindi le entreprises che touchano e che producono gli aliments, possono utilizzare questo sistema per eliminare tutti i rischi liati ai alimenti. Allora, quando parla di le entreprises che touchano e che producono gli aliments, quindi, ci sono anche le entreprises che producono gli aliments, quindi, ci sono anche persone che producono gli aliments. Allora, ci sono anche le alimenti che producono gli aliments, quindi, ci sono anche le delle altreprisze alimentare. Quindi queste altreprisze possono utilizzare le programma per verificare dei rischi liati all'environamento e per prevenire, infine, la contaminazione dei prodotti. Quindi i plan sono preparati per identifichere i rischi possibili e per l'eliminazione. Il è fondato su 7 principi. Allora prima di parlare dei principi dell'HCCP cerchiamo ecco di tradurre questo pezzo per poter poi capire su quali principi si fonda questo sistema. Allora è un sistema riconosciuto dal punto di vista internazionale viene riconosciuta la traduzione in inglese che come abbiamo potuto verificare anche in altri contesti vuol dire analisi del rischio e dei punti critici di controllo. Quindi essendo ma un sistema internazionale la traduzione in inglese viene chiaramente utilizzata anche nelle altre lingue. Allora qual è lo scopo di questo sistema? È un sistema che viene utilizzato per ridurre i rischi che sono legati agli alimenti. I rischi legati al cibo sono fisici, possono essere chimici e possono essere biologici. Quindi tutte le imprese che toccano e producono gli alimenti possono utilizzare questo sistema per eliminare i rischi legati proprio al cibo. Allora quando si parla di imprese che producono e che maneggiano il cibo chiaramente non solo parliamo di imprese alimentari quindi delle aziende che proprio possono produrre la pasta o possono produrre ecco cibi confezionati oppure lavorano le carni eccetera. Parliamo anche di ristoranti, parliamo anche di pasticcerie, parliamo anche di panifici, ecco tutte le aziende che toccano il cibo. Tutte le aziende che hanno cibo nel magazzino devono utilizzare i programmi dell'HCCP e verificare quindi se esistono dei rischi proprio legati ai cibi. Verificare ecco che esistono dei rischi legati all'ambiente e chiaramente come scopo preciso prevenire proprio la contaminazione dei prodotti. Questi piani dell'HCCP che vengono preparati hanno lo scopo di identificare i rischi possibili, l'eliminazione e la prevenzione degli stessi. Parliamo ecco dei 7 principi su cui si fonda l'HCCP. Quindi, il è fondato su 7 principi. Il primo è di conduire l'analyse del rischio. Quindi, a cosa serve questo principio? Il è utilizzato per identificare i rischi fisici, chimici e biologici. Questa edificazione si è composta di due età. La prima età è l'identificazione del rischio e poi l'evaluazione. Allora, l'evaluazione è la determinazione del rischio. Allora, il primo principio è proprio l'analisi del rischio. Serve proprio per identificare rischi chimici, fisici e biologici. Quindi, dei rischi proprio legati anche alla composizione dell'alimento, alla contaminazione, eccetera. E dopo aver identificato il rischio è necessaria proprio una valutazione. Che cosa si intende per valutazione? Per valutazione si intende proprio la determinazione, la stima del livello di rischio. Quindi, abbiamo il secondo principio. Il secondo principio è l'identificazione dei punti di controllo critico. Dopo l'identificazione del rischio, che bisogna cercare? Il bisogna cercare dei punti di controllo critico e quindi le misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono la temperatura, le niveaux de serre, du pH, le tonne. Quindi, dopo aver identificato il rischio fisico, chimico, biologico, quel che sia, bisogna quindi cercare i punti di controllo critici e poi le misure di prevenzione. Le misure di prevenzione, quindi, legate alla temperatura, a livello del sale, livello del pH che serve a misurare proprio l'acidità e i tempi utilizzati. Dopo aver identificato, quindi, queste misure di prevenzione, abbiamo il principio numero T. Le troisième principe è fixer le limite critiche. Donc, après l'identification delle misure di prevenzione, il faut fixer le limite corrette. Il limite corrette concerne le degree de la temperature, le niveaux de serre, du pH, le tonne. Quindi, dopo aver identificato le misure di prevenzione, come abbiamo già detto, temperatura, sale, pH e tempi, dobbiamo fissare dei limiti corretti. Quindi, questi limiti corretti in relazione alle misure di prevenzione riguardano il grado di temperatura, livello del sale, livello del pH e i tempi. Vanno poi verificati. E abbiamo, quindi, il principio numero 4. Le quatrième principe è fixer le procedure de monitorage. Allora, il faut verifier le limite critiche. E, per verifier le limite critiche, on utilizza un programma di monitorage per le misure fisiche e per le osservazioni necessarie. Ce programma verifia e enregistra le temperature, le metodo e le condizioni fisiche. Allora, i limiti critici legati alla temperatura, grado di temperatura a livello del sale, pH e tempi, chiaramente vanno verificati attraverso un programma di monitoraggio, il cui scopo è controllare, nonché monitorare, le misure fisiche e poi trarre le osservazioni necessarie. È un programma che controlla, verifica, registra temperatura, i metodi e le condizioni fisiche. Cosa succede? Nel momento in cui si verificano dei limiti critici, ci può essere qualche limite critico che non viene sufficientemente soddisfatto. e abbiamo quindi un principio numero cinque. Le cinque principi è fixer desazioni correttive. Quindi, per le limiti critici che ne sono non soddisfatti, è necessario di fixer desazioni correttive. Le desazioni correttive sono l'identificazione del rischio, la eliminazione e la prevenzione. Quindi, se ci sono dei limiti critici che non vengono soddisfatti, cerchiamo quindi di fissare, di verificare delle azioni correttive. Qual è lo scopo dell'azione correttiva? Perché l'azione correttiva va cercata? Perché serve ad identificare la causa del rischio, eliminarlo e serve soprattutto per la prevenzione, per evitare che questo rischio possa verificarsi chiaramente in occasioni successive. Poi, le cinque principi è fixer le procedure d'enregistration. Quindi, le procedure d'enregistrement per l'edificazione dei limiti critici sono fissi. quindi, fissare, stabilire le procedure per registrazione del che serve per cosa? Per identificare i limiti critici. Le septième principe è fixer la verificazione delle procedure. Quindi, il fixer la verificazione delle procedure è il dernier principio. Après aver verifié le operazioni, après le aver controllato, on peut valider le plan dell'ASP. quindi si può, dopo aver verificato, dopo aver monitorato, dopo aver controllato scufolutamente tutte le operazioni indicate, si può, ecco, convalidare questo piano dell'HCCP. Allora, facciamo l'assunto finale. Quindi, l'ASP, il sistema internazionale, il signifia hazard di analisi critical counterpoint. Il è utilizzato per la riduzione dei rischi fisici, chimici e biologici e le operazioni che producono gli alimenti possono utilizzare questo sistema per eliminare i rischi liati ai alimenti. L'ASP utilizza il programma e il plan di questo sistema per controllare i rischi liati all'ambiente e per prevenire la contaminazione dei prodotti. Allora, questo sistema si fonda su 7 principes. Allora, il primo principe è l'identificazione dei rischi fisici, chimici e biologici e la determinazione dei rischi. Allora, dopo l'identificazione dei rischi, ci sono le punto di controllo critico e le misure di prevenzione, cioè la temperatura, il livello del sel, del pH e del tempo. Poi, dopo l'identificazione delle misure di prevenzione, bisogna fixare le limite correcto che riguarda le degrado della temperatura, il livello del sel, del pH e del tempo. E poi, bisogna verificare, a través dei programmi di monitoraggio, le limite critiche. A través dei programmi, on registra le temperature, le metodo e le condizioni fisiche. Poi, se abbiamo dei principes di limite critiche che non sono statisti, il è necessario di fixare delle azioni correcti. Le azioni correcti sono l'identificazione dei rischi, dell'eliminazione e della prevenzione. Poi, on fixa le procedure d'enregistrement per l'identificazione dei limiti critiche. a través a voir verifier les operations, a través a voir controler les programmes, on peut valider les plans de l'ASSE. questo è, abbiamo fatto sia un riassunto in inglese o in italiano, cercando ecco di semplificare il più possibile, magari di offrire qualche termine nuovo in più. quindi per apprendere anche dei nuovi termini proprio legati a questo argomento. Vi ringrazio e ti auguro un buon lavoro.